La storia d'amore tra Alex Weiss e Cosmeri Fasanelli è nata all'interno della scuola di amici e a meno di due mesi dall'ultima puntata del talent è già finita. Oggi la ballerina ha rivelato di non stare più insieme al cantante di Non Siamo Soli ed ha chiesto ai suoi fan di rispettare questo suo momento delicato. Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Io faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata. A volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi. Ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza. Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello. Alex Weiss conferma le parole di Cosmeri Fasanelli, anche il cantante ha parlato della rottura. Alex ha spiegato che la storia con Cosmeri è finita da alcune settimane per le loro diversità. Considerando che la finale di Amici 21 è andata in onda il 15 maggio e che i due si sono lasciati da settimane, la loro relazione extra tv è durata quanto un gatto in tangenziale. Ragazzi le cose non vanno sempre come le vorremmo. Da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori. Io le vorrò per sempre bene. Per Cosmeri io ci sarò sempre. E mi scuso per avervi fatto aspettare, mi è servito tempo per metabolizzare. Per chi ha pianto e sorriso con me. Grazie a tutti.